Forni criminali Milano Quartiere Duomo Se può dire Duomo Se offenne qualcuno Andiamo Abbiamo svaliggiato tutti i forni di Milano 23 euro Comunque Milano Duomo Non sta a Martufello ma Panzerotto Ci hanno fatto il mestiere Pomodoro Delaboratorissimo C'è star mestiere ma è buono Frittatina di pasta Un po' anemica N.C.S.P Non è calla No Con questa si rigirano l'occhio 9 meno Pieno Nel complesso La pizza a Milano è buona Voto finale 7 e mezzo 9 e mezzo meno più Ma pieno Vieno Vieno